La fase 2 è incominciata anche per gli uffici pubblici e gli studi privati, ma ha precise prescrizioni che sono state tutte indicate nell'ordinanza regionale emanata dal Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Accessi limitati e solo su prenotazione. Il servizio di Alba Di Palo. La fase 2 è iniziata anche per gli uffici pubblici e gli studi privati, pronti ad accogliere cittadini e loro richieste, ma a precise condizioni di sicurezza. A stabilirle, l'ordinanza emanata dal Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che nelle sue 48 pagine ha un capitoletto dedicato proprio agli uffici pubblici e privati aperti al pubblico, dove si dovrà accedere solo su prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale. Il provvedimento definisce necessario riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione, sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti ed eventuali accompagnatori in attesa. Dove questo non può essere garantito, dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree. Nelle aree di attesa bisognerà mettere a disposizione gel igienizzanti, da usare soprattutto dopo aver sfogliato riviste o materiale informativo. Il front office potrà essere svolto esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione dai cosiddetti droplet, le microparticelle che si sprigionano da starnuti o semplicemente parlando, mentre le riunioni di lavoro avverranno nel rispetto della distanza interpersonale di un metro, meglio però se da remoto. Negli uffici deve essere predisposta un'adeguata informazione, perché chiunque si avvicenda, tra dipendenti e utenti, sappia come comportarsi. Le linee guida consigliano di promuovere il contatto con i clienti laddove possibile tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative e tecnologiche, come accaduto durante il lockdown. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso a chi supera i 37 gradi e mezzo. Resta costante la distanza interpersonale di un metro, anche tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti ed eventuali accompagnatori in attesa. Deve essere assicurata un'adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e un'adeguata disinfezione delle attrezzature. Per le riunioni con utenti interni o esterni vengono prioritariamente favolite le modalità a distanza, ribadisce l'ordinanza, e in alternativa dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale.